Il gruppo Sterparava nasce nel 1951 con la produzione di viteria e bolloneria conto terzi e amplia negli anni notevolmente le proprie competenze in svariati processi metameccanici. Oggi è fornitore di riferimento di componenti e sistemi complessi del centro automotive, produce a sospensione anteriore indipendenti di vicoli commerciali, bus, trattori e premium cars e componenti power train per motocicli, auto e veicoli industriali. Treparava è partner dai più importanti OEM del centro automotive, è presente in tre continenti con sette stabilimenti produttivi, quattro dei quali in Italia, oltre a quelli in Spagna, India e Brasile e più di 1.200 dipendenti e nel 2022 ha superato la soglia per 100 milioni di euro di fatturato. Forte dei valori di spirito di squadra, benessere e sfida, il gruppo ha mantenuto sempre un particolare focus sull'ottimizzazione dei processi produttivi al fine di aumentare la propria competitività ma con un occhio attento alla condizione di salute e sicurezza dei lavoratori. Il nostro gruppo ha quindi trovato in TS Robot un valido partner con cui collabora per la realizzazione dei progetti di automazione in grado di rispecchiare queste condizioni. Da questa collaborazione sono nate ad oggi 12 celle automatizzate distribuite tra i cliente italiani e brasiliano a cui se ne aggiungeranno altre 8 entro la fine del 2023. Uno di questi è l'impianto di asservimento delle elettroricalcatrici per barra di torsione che utilizza un robot Kawasaki ZX-165U equipaggiato con un evoluto sistema che abbina un profilometro laser al sistema di visione ideato e sviluppato da TS Robot, il TS Vision. TS Vision rende i robot in grado di prelevare barra d'acciaio altamente riflettenti dai fasci in ingresso, asservire le elettroricalcatrici e riempire i cestelli che poi raggiungono le fasi di pallinatura e trattamento termico. Questo al fine di aumentare la produttività e contemporaneamente sgravare gli operatori d'attività di manipolazione ergonomicamente molto impegnative e a basso valore aggiunto. Il know-how e le capacità tecnologiche di TS Robot ci hanno inoltre permesso di mantenere l'utilizzo di cestelli specifici che sottoposti all'aggressività del trattamento termico sono soggetti a deformazioni rendendone molto difficile l'utilizzo di impianti automatizzati. TS Vision invece è in grado di rilevare l'effettiva geometria del cestello e adeguare di conseguenza i movimenti del robot posizionando la barra al suo interno senza commettere l'ordine. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie. 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 Grazie.